buongiorno a tutti oggi vorrei realizzare con voi questa questa motivo è semplicissimo questa come elastica 2x2 questa lana quale più più sottile questa io non lo so non lo so quanti metri nel 100 grammi qui quasi 180 metri nel 100 grammi questa lana più grossa io ho messo due come sottile due insieme e adesso io faccio vedere vedere schema questa è schema ragazze nel commenti mi scrivono cosa io devo mettere a parte questi schemi questi schemi io faccio solo per rispetto per voi cosa io riesco a fare io non professionale con youtube io non ce l'ho amicizia dico sincero io nel youtube nuova persona quando arriva mia bambina Elena qua e dopo lei mi spiega come io devo comportare io non lo so dove io io faccio vedere voi sempre schemi quali io io faccio per voi guardate tutti insieme io faccio per voi come bisogno per voi fate screenshot io non metto nel youtube niente io faccio solo movimenti come si può fare questa questa motiva questo io ho fatto per rispetto e rispetto io ce l'ho verso verso di voi cose io capace a cose io non capace solo faccio vedere movimenti come fare e chiedo scusa io non professionale io come io scherzo io dico io sono popolare io appena camminciata e come bisogna camminare e comportare nel youtube non lo so unica cosa io lo so bisogna essere educata con educazione mi non manca allora faccio vedere ancora questa con due parti uguali come voi guardate e questa parte e questa parte perciò voi potete potete fare un cardigan e dopo potete mettere come voi voi volete sempre con due parti due parti uguali e cominciamo allora prima prima gire noi abbiamo qui come voi avete avete visto io ho fatto elastica due rovescio due diritti due rovescio due diritti e così e cominciamo a ballare così allora adesso facciamo primo giro questo mio famoso bordino anche con un bordino ogni video io faccio vedere come io faccio bordino perché mi scrivono come io faccio ragazzi io voi sentite voi sentite io sono straniera per spiegare come io faccio scrivere io non capace io faccio vedere si può sempre guardare e copiare continuiamo allora una io ho messo così per simmetria e cominciamo due rovescio due rovescio due diritti due rovescio due diritti due rovescio due diritti ecco e fate quanti rapporti per voi bisogna ci vediamo ci vediamo nel giro due giro due giro due questo nostro bordino nella parte di rovescio bordino questa rovescio questo diritto e cominciamo e continuiamo con il nostro disegno diritto come guardano male guardate dove diritti diritte dove rovescio rovescio due rovescio due diritti due rovescio due diritti due rovescio due diritti due diritti continuiamo ragazze ci vediamo nel giro 3 allora abbiamo finito allora abbiamo finito giro 3 cominciamo giro 4 uguale come abbiamo fatto prima questo famoso bordino questo io ho sposto prima secondo io ho sposto e questa rovescio e continuiamo come guardano male qui ci vede questa diritta due rovescio due diritti due rovescio due rovescio come noi facciamo elastico due rovescio due diritti continuiamo ci rendiamo nel giro 4 allora adesso facciamo con voi movimento facciamo giro 5 però qui ragazze voi potete valutare come per voi comodo per esempio quando molto sottile sottile lana oppure cotone voi potete fare questi movimenti nel giro 3 oppure 5 dipende come voi piace e come voi valete come giro 3 diventano più più stretto così come faccio io ci vede meglio motivo allora adesso cominciamo questi questi spostamenti allora adesso noi guardiamo qui due rovescio nella questo posto dovrebbe essere diventare spostare questi mali diritti adesso facciamo questi spostamenti questo famoso bordino come io faccio vedere due noi spostiamo questa rovescio abbiamo fatto questo bordino non mica centro con nostro motiva cominciamo il nostro motivo io faccio vedere quale spostamento faccio io io faccio con questa maniera io prendo mali diritti guardate io sono spostato ho fatto rovescio dopo questa mali diritto io sposto metto davanti e faccio diritto adesso adesso questa diritta deve andare avvicinare con questa questa come elastico una per uno allora io filo metto davanti indietro io prendo mali rovescio faccio diritto questa ho fatto giro prendo questa mali rovescio tiro via tiro via ferro riprendo ancora maglia quale era diritta già ha fatto e devo fare questa maglia di rovescio abbiamo fatto guardate adesso questa rovescio deve venire qua deve essere copia di questa rovescio come io faccio prendo questo diritto sposto filo davanti faccio come rovescio come lei guarda perché lei fa vedere lei rovescia adesso io prendo questa maglia diritta giro lascio andare e adesso come questa maglia di rovescio io prendo sul ferro giro e faccio questa diritta ho fatto ripetiamo filo davanti prendo questa questa maglia di rovescio filo filo indietro questa maglia faccio diritta perché lei è diritta giro prendo questa maglia di rovescia lascio andare questa diritta adesso io devo prendere perché non dobbiamo le perdere ecco ecco faccio rovescio perché lei è rovescio ripetiamo prendo diritto sposto nel ferro a destra filo porto davanti prendo questa maglia di rovescio e faccio come rovescio ho fatto adesso prendo questa maglia diritta e comincio a fare spostamento tiro tiro ferro prendo indietro questa maglia giro e questo diritto faccio come diritta perché lei è diritta ripetiamo rovescio spostiamo faccio diritto dopo io prendo questa di rovescio perché devo lei fare perché è stata spostata libero prendo giro e faccio rovescio diritto rovescio rovescio sposto questa diritta importante imparare questo movimento e dopo guardate come va veloce rovescio questo diritto io sposto faccio questa rovescio dopo io cambio posto insieme con diritto faccio diritto adesso diritto da solo dobbiamo mettere altra diritta con questa con questo movimento rovescio qui qui noi avevamo per simmetria perciò facciamo così e così rovescio rovescio questa diritta a questa bordina 3 mali rovescio diritta spostiamo l'ultima rovescio abbiamo fatto giriamo e facciamo come guardano nostre mali guardate dove è diritto diritto dove rovescio rovescio questo diritto e anche questo diritto rovescio e anche questa e anche questa e anche questa rovescio capricci fa questo è diritto questo è diritto e questo è diritto rovescio rovescio diritto diritto rovescio 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 diritto 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 rovescio 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 diritto 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 rovescio 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 e rovescio. Ecco, abbiamo fatto questo movimento. Noi insieme con voi abbiamo fatto questo movimento. Voglio dire un secreto come voi dovete fare con che gira. Guardate, quando due diritti voi così allargate, parte dove voi avete spostato. Dopo voi fate conti. Guardate, 1, 2, 3, 4, nel giro 5 abbiamo fatto spostamenti. E così. Adesso voi fate due diritti e due rovescio. Altezza, fate gira quale per voi bisogno. E dopo fate spostamenti come io ho fatto voi vedere. E così diventa così, così motivo. Faccio vedere ancora schema. Io ripeto, io non professionale fare scheme. Io faccio vedere. voi fate screenshot chi bisogno. E così rimane nella vostra cellulare, tablet, computer, dove voi valete. Io non capace mettere scheme nel YouTube. Io ho già entrato nel YouTube perché mi ha chiesto mia nipote e anche una amica farla. Io faccio, anche questa signora, anche signorina, lei è italiana. Io faccio, guardate, fate. Come va bene, va bene. Come non va bene, scusate. Io non professionale. La ringrazio. Buona giornata. Faccio vedere ancora questo motivo, questo schema. E anche faccio vedere. Così. Non riesco neanche a spostare. Ecco. Chiedo scusa per una piccola confusione. Ragazze, come voi fate così. Vieni, è così bello. Io auguro a voi buona salute. Fate vaccina. Io ho fatto ieri, AstraZeneca. Fate vaccina e mi raccomanda state bene. Io auguro a voi buona salute e fortuna e anche a me.